E' dietro di me il bellissimo campanile trecentesco della chiesa di San Giacomo Apostolo Maggiore a Soccina, un campanile molto particolare perché è etagonale, quindi ha sette lati e per quanto riguarda il numero 7 sicuramente il significato è religioso dal momento che il campanile appartiene alla chiesa e quindi a seconda delle interpretazioni il numero 7 potrebbe rappresentare i sette sacramenti, i sette doni dello Spirito Santo oppure le sette regole dell'ordine agostiniano fondatore della chiesa. Questo campanile ha un'altra caratteristica è pendente per il terremoto del maggio 1802. Il suo sontato, un paio, un'altra caratteristica... Quattro è un paio, quattro si fai! Quattro è un paio! Grazie a tutti.